Massimo Romano aveva invocato una scelta coraggiosa, la scelta coraggiosa è arrivata. Assolutamente sì, infatti siamo estremamente soddisfatti per questa pronuncia perché è stata oltre che coraggiosa estremamente puntuale. Il Tribunale Amministrativo ha condiviso l'impostazione dei ricorrenti e ha condiviso in particolare il rischio che non vi erano delle modalità alternative assistenziali rispetto al punto nascita di Termoli come abbiamo puntualmente documentato all'interno dei ricorsi. Quindi è stato ripristinato un diritto alla salute che il Tribunale si è preoccupato di precisare e deve essere garantito in tutta la sua pienezza ed effettività. Quindi a questo punto la palla passa alle amministrazioni che dovranno proseguire nel percorso intrapreso. È stata vinta una battaglia, c'è una guerra però ancora da combattere. Su cosa punterete? Con riferimento specifico al punto nascita è del tutto evidente che con l'approvazione del decreto Calabria si sia aperta una stagione nuova per il sistema sanitario regionale molisano perché dopo dieci anni di blocco del turnover ci sarà finalmente la possibilità di porre mano alle carenze di organico e quindi di personale sanitario. È evidente che il problema del Molise non riguarda soltanto il punto nascita di Termoli e non riguarda soltanto il basso Molise. È una condizione che purtroppo riguarda tutta l'organizzazione sanitaria. Lo stiamo vedendo in queste ore dove stanno arrivando al pettine una serie di nodi che pur erano stati per tempo segnalati e denunciati anche alle autorità preposte. Quindi c'è un grandissimo lavoro da fare. Stavolta Termoli ha reagito un intero territorio. In prima persona i sindaci ci sono schierati dalla parte dei cittadini e credo che questo sia il miglior viatico per poter impostare una stagione di grandi criticità ma da cui può venire fuori anche una ripartenza effettiva.